Ecco vedete si tratta di Charlie Ecco Charlie Charlie? Gli hanno sparato Sparato! Coraggio che cosa ci state nascondendo Che Charlie si è sparato un colpo al lobo dell'orecchio Esatto Ma non ha senso Esatto Siamo nei guai La polizia Oddio Piuttosto perché, perché ragioniamo perché non abbiamo sentito questi spari Ci sono Siamo tutti sordi Allora ecco che cosa facciamo Tiriamo fuori due dita o un dito Se tre sono uguali e uno è diverso, quello è Charlie Ma chi l'ha generato a questo? Einstein? Non è illegale sostituirsi a un'altra persona Ma lo so che è illegale Ma lui è ancora di più far finta che qui non ci sia stato un tentativo di suicidio Noi non abbiamo sentito niente, no Il volume era troppo alto, non potevate sentire niente Ma certo La musica Pensi non abbiamo neanche sentito gli spari Quali spari? Uno, due, tre, via Ah, ecco l'ennico Ecco l'ennico Abbiamo tutti due dita, uno solo No, no, erano due, erano attaccate nel grasso dell'oca Allora ecco l'ennico Conti Grazie a tutti.